Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un argomento molto importante che sicuramente vi aiuterà ad affrontare il test, ovvero l'ansia. Molte delle cause di fallimento di un test, di una prova, molte volte sono correlate alla malogestione dell'ansia. Perché è vero sì che l'ansia in alcuni contesti ci può servire, e lo vedremo dopo, però molte volte uno va nel pallone e di conseguenza il test non viene eseguito nel migliore dei modi. Pertanto vi darò qualche trucchetto per gestire al meglio questo momento. Ma prima di iniziare questo video ragazzi, invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, mi raccomando attivando la campanella perché oltre il 60% di voi non è iscritto al canale, solo 3000 persone hanno attivato la campanella, quindi attivatela perché è gratuita, voi siete anche già iscritti. Lasciate un bel like perché come sempre aiuta l'algoritmo di YouTube a mostrare questo video, e quindi ripaga gratuitamente l'impegno che io metto a realizzare un video. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, via con la sigla! Hai studiato tantissimo per questo test, ti sei impegnato a fondo, hai fatto tantissime simulazioni, ma il giorno in cui arrivi all'esame, quindi alla tua prova definitiva, senti il cuore battere a mille. Ti vengono le lampade di calore, inizi a studiare freddo e la mente si dimentica tutto ciò che hai studiato. Ecco, questo è un chiaro segnale che stai avendo un attacco d'ansia. L'ansia della testa dobbiamo dire che è un qualcosa che è comune, esiste, e si presenta proprio nei momenti in cui tu hai bisogno della massima concentrazione, ovvero quando devi fare la tua prova. Ignorarla è impossibile, anzi, è delle tecniche perché non ti permette di comprendere relativamente quello che potrebbe essere il risultato finale della tua prova. Come dice mia cugina che è una psicologa, l'ansia da testa, l'ansia da prestazione è una paura che si ha proprio in prossimità di un evento molto importante della nostra vita e fa parte di quei meccanismi di difesa che la nostra mente mette in gioco. Sostanzialmente è un meccanismo che però ci permette di dare di più, di tirare fuori quello che noi chiamiamo un bip per dare il massimo. Il problema è che certe volte si scollina quello che è il livello che ci permette di essere più profiqui, di tirare appunto fuori gli attributi e si finisce proprio ad avere l'effetto contrario, a praticamente peggiorare la nostra performance. Ecco perché prima di darvi i miei consigli su come superare l'ansia da prestazione e l'ansia da testa, è bene capire quelle che sono le cause di un'ansia del genere. Beh, la prima causa è il contesto dove noi ci stiamo preparando, il contesto che può essere familiare, universitario, perché è normale. Se tu ti trovi in un ambiente in cui magari i genitori non sono contenti che tu affronti questo test, è normale che sentirai una forte pressione. Analogamente se tu studi in un'università o comunque in un ambiente dove sono tante persone preparate che vogliono anche loro riuscire, ti troverai a doverti scontrare con delle persone che sono forti come quanto te. Un'altra causa potrebbe essere che hai bisogno di ancora studio, o meglio, la tua mente pensa che tu devi ancora continuare a studiare. Per questo comunque ho fatto una serie di video che trovate nella playlist qua sopra in descrizione, ragazzi, sul mio metodo di studio, su come studiare per prepararsi al test. Quindi non abbiate paura, guardate che video che sono dei consigli che secondo me vi torneranno sicuramente molto molto utili. Anche qui, quindi il metodo di studio gioco un ruolo fondamentale, però pensate un po' che quella leggera ansia, quell'ansietta, diciamo, chiamiamola così, vi permette di studiare, di approfondire, di mettervi in gioco, mentre molte volte quando non si sente quell'ansia non affrontate le cose. Ve lo posso garantire, perché io studio soltanto quando mi diva l'ansia per l'esame, che ho detto, oh mio Dio, non supero l'esame. E infine abbiamo i problemi psicologici. Sulla questione dei problemi psicologici non entrerò molto nel dettaglio perché non è il mio campo, quindi lo lascio fare a chi è più sberto di me, però vi basta sapere soltanto che l'ansia può essere appunto fisiologica, ma può essere anche patologica, però si può uscire da questa condizione di patologico se viene affrontata col suo porto di professionista. Allora per chiedere quelle che potrebbero essere le principali cause dell'ansia e sicuramente tra queste, una delle prime tre, sicuramente la riconoscete nel vostro percorso, andiamo a vedere quali potrebbero essere dei consigli che possono permettere di superare l'ansia del test e quindi gestire meglio quel momento. E fidatevi che se chiede a qualcuno che non è entrato l'anno precedente vi risponderà che molto probabilmente ha gestito male quel momento, proprio con l'ansia. Quindi vediamo di capire come affrontarlo. Il primo consiglio, che forse è quello più banale, è quello di conoscere la materia. È indubbio che se tu non hai studiato nulla, non sei preparato per il tuo test e per il tuo esame, l'ansia ti divorerà di no, perché sai che il tuo alimenta è dietro l'angolo quando tu non hai studiato. Ed è normale che per quanto ci possa essere la componente fortuna, in un test, in un esame, senza aver studiato diventa veramente molto molto difficile superarlo. Il secondo consiglio è quello di credere veramente in noi stessi, credere in te stesso, perché se tu ti stai impegnando positivamente per risolvere il tuo problema, per superare il tuo esame, questa positività ti permetterà di affrontarlo e di superarlo, perché non stai facendo nulla di sbagliato, anzi stai dando il 200% per il tuo obiettivo. Quindi non avere paura, perché se ti sei impegnato veramente sai di superarlo. Ovviamente il terzo consiglio è quello di non cercare di essere perfetti, non cercare di poter sapere tutti i manuali Heinz, o tutti i libri di preparazione al test di medicino, o tutti i paragrafetti dell'esame, ma considerate che le nozioni sono tante, e che quindi non potete essere perfetti. Già questo vi permetterà di dire, ok, ho studiato tanto, so tanto, ma non so tutto, quindi speriamo che riesca a rispondere alle domande. Il quarto consiglio è quello di trovare il tuo tempo, il tempo per rispondere alle domande. Sembra qualcosa di banale, ma prima di iniziare la tua prova, respira profondamente, perdi quel minuto che non farà la differenza, ma la farà realmente, in quanto tu riuscirai a concentrarti meglio, ad eliminare quello stress, a riprendere le energie, e poi metterti subito sulla prova. Non aprire, strappare tutto, e metterti a rispondere alle domande con quell'ansia, ma respira profondamente, fai dei bei respiri profondi, e affronta meglio la tua prova. Analogamente, oltre a respirare profondamente, trovi il tempo di leggere adeguatamente le domande. Un approccio superficiale vi porterà a dare delle risposte superficiali, un approccio un po' più rilassato, vi permetterà di trovare a fondo le risposte per le tue domande. Sesto consiglio è quello che gli psicologi chiamano rinforzo positivo, ovvero concentrati su quelle cose che sai essere il tuo cavallo di battaglia, che ti hanno quella sicurezza iniziale, per poi affrontare quello che ti senti un po' più insicuro. Così è quello di silenziare, eliminare tutti i tuoi fattori negativi intorno a voi. Sicuramente il giorno del test sentirete quella persona che vi dirà, ma guarda, io mi sono preparato dal corso pinco pallino, ma guarda, io ho studiato all'università, di questo, quest'altro, io ho fatto questo, ma tu le domande su questa la sai, quest'altra domanda la sai, questo vi proverà a dire, mio Dio, io non ho fatto questo, non ho fatto quest'altro, non ho studiato quest'altro, vi genererà all'interno di voi ulteriore ansia, voi disconnettetevi da questo mondo, non ascoltate nessuno, quindi eliminate tutti quegli fattori, quelle influenze negative, ma mettete intorno a voi persone positive, magari qualche amico stretto che ha studiato con voi, magari qualcuno che vi rassereni, ecco, questo può fare veramente la differenza, tra superarlo e non superare il test, e ve lo dico per esperienza personale, quante volte io dovevo fare un esame all'università e arrivare al mio collega, oh ma tu l'hai fatto quegli argomenti? io ho detto, no, no, non ho fatto, è andato in panico, il tutto, dovevo studiare, ma che devo fare, cosa faccio, non so che fare, la negatività deve essere eliminata in quel momento, questo è un consiglio per i giorni precedenti, o meglio, affrontare i problemi, voi se avete di avere un problema con una determinata materia, cercate la soluzione, cerchate aiuto nelle persone, non vi nascondete, non lo so e basta, studiate e se non riuscite con lo studio chiedete aiuto ai vostri genitori, a un vostro amico a qualcuno, a un professore che vi possa insegnare quel determinato argomento o quella determinata materia solo così riuscirete a ridurre la vostra ansia sapendo di aver fatto tutto il possibile quello che vi voglio dire è un consiglio anche di vita mantenete la giusta prospettiva come per me, anche per voi, questi test sono un tutto o niente cioè se non entro in medicina cosa farò della mia vita? se non entro al test SSM non potrò diventare lo specialista che volevo essere sono sicuramente dei traguardi importanti della nostra vita e con questo non voglio dire che non sono importanti ma guardate bene, cos'è importante nella nostra vita? questo è l'1% delle cose importanti che possiamo avere ci sono tante cose negative che ci circondano tante cose che ci potrebbero attaccare e legare la nostra vita secondo voi la salute di una persona a noi cara vale più di un test? assolutamente no è vero, è importante per noi è vero un qualcosa di fondamentale ma ci sono altre cose ben più fondamentali che è un banale e semplice test prendetela con filosofia qualora non dovreste andare bene dite come dicono i miei nonni l'importante è che c'è la salute riprovate l'anno prossimo impegnatevi sicuramente ancora di più l'anno prossimo ma non pensate che la vostra vita è finita ci sono sconfitte ben peggiori questo è nulla il consiglio è quello che vi dico sempre che cerco sempre di portare sulla mia pagina Instagram se non mi seguite mi chiamo peppo893 sull'avere un buono stile di vita l'alimentazione il tenersi attivi fisicamente non è poco io gestivo la mia ansia il mio stress con l'allenamento fisico in palestra io mi allenavo anche il giorno prima di un esame perché questo mi piaceva stare bene era un modo che avevo per gestire quel momento quell'ansia, quello stress infatti la vostra salute mentale dipende dalla vostra salute fisica men sana e il corpo è sano come dicevano le antiche forse qualcosa l'avevano capita loro tra avere un'alimentazione junk e un'alimentazione migliore beh ovviamente la seconda è una scelta migliore ma vi permetterà di essere più profili e in merito ciò vi lascio il mio link in descrizione del mio libro dove con un collega Federico Fusone e mio fratello che è un personal trainer abbiamo parlato di come gestire l'alimentazione nell'allenamento per studenti universitari ma non solo, per studenti in generale cioè come la dieta può modificare la vostra performance di studio l'ultimo consiglio per chiudere per gestire l'ansia dovete capire che voi qualcosa su qualcosa non sarete pronti quindi vedrete un po' io bianco una domanda che non comprenderete dovete avere il coraggio di andare avanti di non incaponirvi su quelle domande ma andare avanti solo questo vi permetterò di dire questo so, questi sono i miei limiti cerco di sfruttare al meglio ogni centimetro ogni millimetro della mia capacità di quello che ho studiato e di quello che ho preso e raggiungendo questa consapevolezza sarete sicuramente in grado di gestire il test ora ragazzi spero che con questo video di avervi dato veramente dei consigli validi per gestire lo stress e l'ansia di un test così importante test di medicina test SSM quello che volete è sicuramente una prova fondamentale per la vostra vita ma sono sicuro che con questi consigli riuscirete quantomeno a gestire il vostro stress e la vostra ansia nel migliore di modo nessuno c'è mi raccomando come sempre lasciate un bel like condividete questo video aiuta veramente tantissimo iscrivetevi al canale attivate anche la campanella è molto molto importante ve l'ho già spiegato il perché e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi